Buonasera amici e amiche di Nova News 24. Chi condorrà la nuova edizione di Affari tuoi a settembre dopo l'addio di Amadeus? Come già sappiamo Stefano De Martino scalpiterebbe, ma la Rai avrebbe messo gli occhi su un altro conduttore ben più navigato di lui e che con i quiz di Rai 1 ha già preso la mano. TV Blog ha fatto il nome di Marco Liorni che è reduce dai successi di reazione a catena e di l'eredità. I due quiz, che si alternano nel preserale di Rai 1 insieme ad Affari tuoi e i soliti ignoti, sono stati affidati entrambi a Marco Liorni dopo che è sfumata l'ipotesi Pino Insegno. Il comico della premiata ditta, infatti, avrebbe dovuto condurre lui l'eredità ma le è stata tolta dopo il flop riscontrato del mercante in fiera. Insomma il nome di Stefano De Martino, potrebbe essere un vero colpo di scena, in Rai potrebbero puntare sul conduttore, giovane molto affermato dopo il successo, con Maria De Filippi su Canale 5 e soprattutto, dei nuovi programmi in Rai. Amici e amiche, sicuramente ancora è presto per avanzare ipotesi ma, intanto, se vi è piaciuto l'articolo, mettete il pollice in su, e seguiteci sempre su Nova News 24 in centro.